demansionamento approvato di già da 75 la bocca si spalanca le parole non escono un peso materializzato si in un secondo mi curva le spalle chiudo la bocca ho le labbra strette gli occhi strizzati ho bisogno di raccogliere le idee soprattutto la calma per cercare di formulare una frase di senso compiuto non ho capito te lo ripeto no aspetta la interrompo alzando la mano che allontana il suo busto un po troppo proteso verso di me ho sentito quello che hai detto perfettamente ah bene allora bene un cazzo mi verrebbe da dire sul serio bene sento le guance scaldarsi è primavera e non fa ancora così caldo ma un fuoco estivo mi ha scoppiato dentro sono tutte persone giovani ti troverai bene prova a prendere la parola